ancora eccoci qua adesso ci vediamo il filmato di carletto life federico nono faustino nono faustino che si è vestito cioè federico ha fatto vestire nono faustino da frankenstein vanno da nonna per farsi vedere il nonno va da nonna per farsi vedere nonna maria si arrabbia e gli dice alcune parole dopodiché si prepara la tavola e nono faustino un buon scocciato si può togliere il vestito di frankenstein e come al solito poi si finisce come ogni volta dopo fine pranzo con l'arsugata di nonno faustino a voi il filmato vai più a sinistra vai vai mamma mia ma secondo te faticherà a sinistra e sinistra avanti guarda 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 che metto va via ma sto frankenstein è frankenstein è frankenstein è frankenstein va via ma perché guarda che metto va via eh oh ma ti rendi conto tu hai messo frankenstein e lei che fa eeeh non vuole apparecchiamo insieme dai si si apparecchiamo i casti insieme dai qui alla tovaglia guarda la tovaglia la puoi mettere anche sopra la testa di frankenstein si vedi metto dopo un fatto coglione in toto no franzo è bellino vai 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 va parecchia vai bravo mettila per bene così la tovaglia manneggia cruchetta stronzo 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 ma perché ma porca sto metto la tovaglia vola dire capito guarda che più le forbici e taglio eh ma perché rapparecchia così dai sei bellino eh no no sta porco sta porco ma puro frankenstein oh oh no eeeh mi ha rotto i coglioni tu e frankenstein ti rendi un altro po' levo lo voglio appisciare come le devi appisciare mannaggia i crocchistrata dio cari ma ma da te questo è sempre scioglio vabbè ci fai un buchino oh levo e non levo fino al bacione di quadruccio e i cappelletti a me i cappelletti mi sono rotto i coglioni eh no perché eh eh perché ma fino al minuto fa cantavi se sei incazzato vabbè ma in buoni dai no ma io da tutta minestra c'ha due cappelletti guarda sarà 200 grammi di minestra ma guarda ma guarda che lavoro guarda nel lavoro nel lavoro di coglioni ma nonostante tutto si riabbassano le temperature perché qui è molto freddo e ecco qua sta nevicando guardate come si sta muovendo la neve sulle nuvole incredibile guardate come si muove ecco qui sta nevicando riaprono tutti gli impianti riapriamo tutto tutto tutte le discese libere guardate come si mettecene più dai 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 si in te sacco dico io che metto tutto ma rispetto il feretti eh ah ma chi è che fa arzughe o no che arzughe oh no che facciamo leccamo anche cucchiaio oh 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 no il cucchiaio non si mangia eh eh oh oh no non risponde il coccodrillo ciao